Il Corecom Toscano e l'Istituto degli Innocenti hanno siglato in Regione un protocollo per avviare un monitoraggio che andrà ad indagare in che modo l'utilizzo del web ha modificato i rapporti all'interno delle famiglie, in particolare la vita domestica dei minori. Il progetto regionale nasce con l'obiettivo di migliorare la protezione dei minori in qualità di soggetti deboli rispetto ai mezzi di comunicazione di massa, in questo caso quelli digitali. I rischi sono tantissimi perché se un bambino non è educato, non è consapevole di quello che può fare sappiamo bene che può incorrere in tantissimi pericoli. Un bambino lasciato da solo a un computer per delle giornate senza nessun controllo e senza nessun lavoro educativo può rischiare, può avere dei pericoli incredibili. L'iniziativa prevede un'indagine su un campione di bambini per capire il ruolo che il web gioca all'interno del nucleo familiare. Andiamo a esplorare 500 famiglie e capire come è cambiato il rapporto dentro il nucleo familiare dell'utilizzazione del mezzo del 2.0, della nuova comunicazione. Il protocollo si collega ad un'altra iniziativa già sviluppata dall'Istituto degli Innocenti alcuni anni fa, il progetto Troll Tutti i ragazzi ora online, che si articola su tutta la Toscana. Grazie.